Devi fare un certificato? Fallo online! È facile! Vai su www.anagrafenazionale.interno.it Ora che ti trovi nella pagina principale del sito ANPR, seleziona l'opzione Accedi ai servizi, che puoi trovare in alto a destra. A questo punto, devi accedere con l'identità digitale che preferisci tra SPID, CE e CNS. Una volta che ti sei autenticato, apparirà una schermata con l'informativa sul trattamento dei dati personali. Per proseguire, conferma di averla letta. Ora che sei nella prima pagina della piattaforma, premi sulla voce Certificati nel menu in alto. Spunta la casella per confermare di aver letto le informazioni e scegli una delle voci, Richiedi per te o Richiedi per la tua famiglia anagrafica. Se hai bisogno di un certificato per qualcuno della tua famiglia, clicca qui. Trovi tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo familiare. Scegli quella per cui devi fare il certificato. Se invece devi fare un certificato per te, clicca qui. La procedura per richiedere un certificato per te o per qualcuno della tua famiglia anagrafica è sempre la stessa. Seguila qui. Leggi la lista dei certificati disponibili e seleziona quello che ti interessa. Poi, seleziona l'uso del certificato. Se ti serve senza bollo, scegli il motivo di esenzione dal menu a tendina. Se ti serve con bollo, dovrai pagare online la marca da bollo, prima di scaricare il certificato. Verrai reindirizzato sul sito di Pago.pa, dove potrai pagare con carta di credito o altri metodi. Nell'ultima sezione, scegli come ricevere il certificato. 1. Con download su PC, tablet o telefono 2. Via mail In questo caso, ricordati che devi aver aggiunto il tuo indirizzo mail nella voce Profilo utente, presente in alto, sotto il tuo codice fiscale. Riceverai poi una mail da ANPR per confermare l'indirizzo 3. Sul domicilio digitale Se vuoi saperne di più, vai sul sito del Ministero, domiciliodigitale.gov.it Ora puoi ottenere il tuo certificato. Basta cliccare su Anteprima e poi su Ottieni certificato. Attenzione, l'anteprima non è il vero certificato, è solo una bozza per verificare i dati. Per ottenere il certificato vero e proprio, premi su Ottieni certificato. A questo punto, il tuo certificato è pronto. Lo troverai sul tuo domicilio digitale, nella tua mail, oppure nel download del tuo PC, tablet o telefono. Se stai facendo il tuo certificato da cellulare, ti verrà salvato per Android nella sezione Download dell'archivio e per iOS nell'applicazione File. È facile, no? Grazie per averci seguito fino a qui. Se il video ti è stato utile, condividilo.